e quindi andare verso delle informazioni ed approfondimenti che ci accrescano, che ci permettano di scoprire, vogliamo far uscire la gente dalla rubrica dicendo, cazzo, questa roba non la immaginavo, che figata, incredibile, e anch'io voglio uscire così, io, ragazzi, alla fine dell'assegnato mi diverto, però ne esco stanco, ne esco senza la sensazione di aver scoperto nulla, tante chiacchiere, tanto rumore, la stampa, il si dice, il si pensa, e basta, su, invece vogliamo andare in direzione, allora, ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 12 su Twitch, noi andremo a leggere articoli approfonditi, specialistici, inerenti le scienze, le scienze umane, la storia, l'arte, il cinema, la cultura pop, l'astronomia, in questi giorni io, come sapete, mi sono appassionato al James Webb, quante volte ho letto articoli dicendomi, cazzo, quanto mi piacerebbe leggere questo in live insieme alla community